De Andrea è uno spettacolo musicale in cui verranno eseguite le canzoni di Fabrizio De Andrè riarrangiate in chiave più sperimentale e elettronica. Quello che abbiamo fatto è appunto riarrangiare i brani di De Andrè con un altro sound mantenendo testi e armonie e cambiando totalmente le atmosfere sonore. Presenteremo questo concerto il 4 e il 5 maggio al Cinemastra di Pesaro dalle 21. Con me sul palco ci saranno Pedro Megna Peraza che farà le percussioni e chitarra Edoardo Martinelli basso e chitarra, Francesco Verardi alla tastiera ed Enrico Greenwood che si occuperà del suono in generale quindi ci farà sia da tecnico sia mi ha dato una mano negli arrangiamenti. La particolarità di questo spettacolo è la fusione tra il mondo della musica elettronica arrangiamenti pre-registrati in studio e live music quindi quello che gli strumentisti suoneranno durante gli spettacoli. Oltre alla musica ci saranno anche momenti di poesia e teatro a cura di Diego Bulzoni che farà tutta la parte della narrazione e appunto curerà questi momenti di intermezzo fra la musica. Quando abbiamo pensato ad André ci è venuto in mente che indubbiamente si è trattato anche di un poeta ce l'ha dato prova nei suoi testi e quindi abbiamo avuto questa idea di unire alcune forme di teatro e di poesia a questo spettacolo per donare anche un che di novità. Ne approfitto per dire che questo sarà il primo spettacolo presentato dalla nostra nuova associazione culturale il cui nome è Aural. Potete contattarci al 379-2199-992 oppure su Instagram e Facebook sottonome Aural Frequency.